Riprendiamo questa nostra conversazione, un aspetto che sta salendo a galle per stare in tema nei giorni a seguire, ci si sta immergendo dentro questo problema, è quello che riguarda il rapporto tra il comando della nave, in questo caso lo squilibrato schettino fino da tutti, è la casa madre, è la costa schettino che resta in conversazione per 40 minuti a qualche minuto fa con un alto dirigente, un alto funzionario o il più alto degli altri della costa croce. Che succede in questi casi? La costa a dirigere in qualche maniera l'operazione o il comandante deve rispettare? Cosa potrebbe succedere? Cosa normalmente succede? Cioè come è intesa questo rapporto? Perché ormai il cosiddetto shipping, cioè andare per mare, comincia dalla segretaria che risponde al telefono all'ultimo del componente dell'equipaggio. è improprio in questo caso parlare dell'ultima ruota del carro perché non esiste, perché in termini di sicurezza il comandante ha lo stesso valore del mozzo, in termini di sicurezza, perché è una catena praticamente, se una maglia di questa catena si interrompe, il comandante migliore del mondo non può raggiungere mai l'obiettivo che si è perfisso. Allora dovrebbe funzionare così, ogni compagnia ha un referente, o per ogni navo, per gruppo di navi, dipende anche dalla grandezza della compagnia, che si chiama DPA, è un all'acronimo di Designed Personalshore, cioè una persona designata a terra, voluta dai regolamenti internazionali, e diciamo preposta lì e voluta dall'armatore, scelta dall'armatore che dovrebbe coordinare qualsiasi cosa succeda a bordo, dovrebbe essere lui a dire da terra, cioè il comandante nel momento in cui succede qualunque cosa succeda di anomalo, interviene e chiama questo DPA, è un dovere, è tenuto per legge, lui lo deve chiamare, lo deve informare sui fatti che stanno accadendo, è chiaro nella fattispecie la cosa è drammatica, io dico come dovrebbe essere la cosa. Questa persona che normalmente è una persona capace, una persona di fiducia dell'armatore, con un'esperienza alle spalle tale e tale, da poter dare, certo, che deve dare le prime indicazioni, come delle linee guida, il comandante dice comportati così, perché lui praticamente cosa pensa? Pensa al dopo, quando a bocce ferme cosa entrano in gioco, tribunali, capitanerie, avvocati, risarcimento, assicurazioni, centinaia e centinaia, assicurazioni, quindi lui dice fai così e allora lo guida, permorestando che non lo può distogliere da quello che è il suo ruolo di comandante, non può dire. Ora è inspiegabile secondo me, questo è l'unico neo, al di là dell'errore umano che ci può stare tutto, dei ritardi che ci possono stare. Ma se pensa che il comandante Schettino abbia fatto la giusta fotografia ai vertici della costa? Secondo me la giusta fotografia in termini immediati no, dopo qualche minuto sì. Informando ora le cronache, dicono, non so quanto sia vero per cui bisogna appurarlo, perché è la scatola nera, è tutte le conversazioni, perché non dimentichiamo che tutte le conversazioni sono registrate, tutte sono tutte registrate, non si può scappare più, come ci insegna la cronaca per altri eventi successi, disgrazi, omicidi, ne abbiamo piene le cronache in questo quarto grado la fa da patrono. Per cui io non riesco a concepire, ora se fosse vera la notizia che la conversazione fra il comandante e questo DPA di Genova sia durata 40 minuti, secondo me è una cosa inconcepibile. Troppo, troppo, sono 40 minuti neri da investire, c'è la mente del comandante, non so se per sua volontà o per volontà di chi era l'interlocutore, che adesso non so chi sia, chi fosse. Perché c'è il comandante di suo, distrutto per la carta. Esatto, cerca aiuto, fra virgolette, nel senso cerca supporto più che aiuto e questa conversazione, a quanto dico la cronaca, non so se è vero, dura 40 minuti, per me è la cosa peggiore di tutta la storia. Dici tu, in fase di soccorso che in 40 minuti... Cioè, tu quando praticamente, quanto è durata? Tre ore tutta la faccenda. 40 minuti sono un'eternità. Cioè, questi 40 minuti spostati all'inizio di un intervento immediato, di un intervento... E poi il tutto, prima dell'abbandono nave, si è circoscritto in 76 minuti. È stato dichiarato l'abbandono nave, dopo 76 minuti... Quindi parliamo di quasi... Quindi 40, di questi 76... Più del 50% sono stati persi a vuoto. Perché non si sa cosa ci sono detti. Nessuno lo sa. Gli inquirenti lo sapranno, perché attraverso un'intercettazione poi diranno esattamente perché questo povero Cristo, massacrato purtroppo dai massi media, da tutti quanti, gliel'hanno letto su YouTube, se ne vedono tutti i colori, che io non riesco più a entrare neanche su internet, perché proprio viene, scusate l'espressione del voltastomago, a condannare, proprio a massacrare quest'uomo, che è una persona umana, al di là. Ti trascino dal punto di vista emotivo. Trascino dal punto di vista emotivo, però non mi pare giusto, diciamo, umanamente parlando non mi pare giusto. Sì, ma vedi, la stura a questi giudizi, qualche volta persecutori e massacratori, confronti anche, in questo caso, di Schettino. La stura la danno anche i vertici di tutto questo movimento. Perché, e prendiamo questo argomento, intanto vi volevo chiedere prima, come mai all'inizio il comandante ha cercato di minimizzare l'accaduto? Lì è per non fare, per entrare in panico. Che qualche magia l'avrà pure detta. Sicuramente, anche perché non parlava lui mai in prima persona, perché diceva, quest'altoparlante, questo interfonico, diceva, per nome del comandante, per nome del comandante, diciamo, che non succedeva un blackout, ci stiamo lavorando sopra. Per un spirito di rassicurazione. Quello è chiaro, quello fa parte delle procedure per non allermare. Mentre conosceva l'entità dell'entità 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 dell'entità. Perché, a quanto dicono, perché si dice, le cronache dicono, qualcuno lo sta dimostrando, che lui ha mandato subito un ufficiale suo nel locale macchina e questo è tornato su dopo cinque minuti dicendo, abbiamo il locale macchina allagato. E quindi, lì. Quindi già il dramma è in corso. Quando un locale macchina è allagato, c'è tonnellate di acqua che vengono su, se queste tonnellate d'acqua vengono da una linea d'acqua che si infiltra sempre, e la pressione del mare... E quindi gli scatti blackout. Blackout, tutte queste cose qua. Quindi, lì bisogna prendere la decisione giusta. O comunque una decisione. E lui ha preso quella di abbandonare la nave? Ma... Se non è abbandonata, perché? Quando? Quando? Questo non lo posso sapere, non lo so. E non so se... Perché è sceso dalla nave? Questo io non riesco a capirlo. Non riesco a capirlo. Perché, peraltro, dicono, almeno, i fatti che erano... Che era con un gruppo di ufficiali. Quindi è come pensare, e per me, da marinaio chiamiamo... Dico, la provincia del giudizio, comunque si metta, è il momento peggiore di identificazione dell'uomo schettino. Non dell'uomo schettino, ma del gruppo di ufficiali che erano su questa lancia e sono andato a terra. Al domani professionale è quello dell'abbandono della nave. È quello che si evince, diciamo, elementarmente. Mentre, come mi dicevi tu, con la tua esperienza tragica che ha avuto il comandante della Patmos, senza nessuno a bordo, voleva rimanere a bordo. Voleva rimanere a bordo. Ecco, parliamo già di personalità diversa in questo senso, vero? Sa, ognuno di noi poi la reazione può essere diversa nell'uno dell'altro, perché entrano in gioco tanti fattori emotivi, psicologici. E poi a me, questo rapporto telefonico, durato 40 minuti, questo, se fosse vero, è drammatico. Mi sembra che abbia potuto partorire anche un condizionamento sul cervello già devastato del comandante. Perché io, per esempio, posso supporre che una società come la Costa, grandissima, eccellentissima in tutto e per tutto, c'è, diciamo, il non plus ultra, diciamo, nel ramo alberghiero, diciamo, navi, è chiaro che guarda nell'immediato all'immagine, alla cosa può succedere dopo. Io sono stato su una costa precedente. Anch'io. La cura dei particolari, la cura dei particolari, è quasi demenziale, è quasi veramente demenziale, la cura dei particolari per ogni passeggero. Ma è famosa nel mondo proprio per questo qua. Quindi intaccare l'immagine di questa società, lì, ripeto, questo buco di 40 minuti, cioè, all'aver distolto il comandante, ora, per colpa del comandante, che poi si è andato via con un gruppo di ufficiali, questo bisogna appurarlo perché non è ancora dato per certo, col comandante secondo, con altri ufficiali, su una lancia di salvataggio, e poi l'hanno ritrovata a terra. E poi viene fuori quella obrobriosa discussione con il comandante De Paglia. E se ad esempio lui, nel rappresentante della Costa Crociera, avesse trovato un dirigente d'alto bordo come De Falco, che secondo me, anche dal punto di vista psicologico, ha sbagliato l'approccio con un sottostante, chiamalo come un sottostante. sovraesposizione da tal punto. Vabbè, noi siamo estremisti al massimo. Anche questa conversazione, non sarebbe stato più opportuno che avvenisse tra due professionisti del settore, magari tra un comandante di Capitanerie e un comandante della Costa Crociera, piuttosto di sovraesporre questo incontro telefono, questo scontro telefonico in maniera spropositata. Vabbè, lì nel momento in cui entra in gioco, fra virgolette, la Capitaneria, praticamente lui prende in mano la situazione. C'è un... Il De Falco. Il De Falco. Lui diventa capo supremo di un piano SAR, cioè Sir Cendrescu, cioè ricerca e salvataggio, per cui è lui che gestisce la situazione. Cioè diventa... Il comandante nel momento in cui dà l'abbandono nave, non è più il comandante della nave, giuridicamente parlando. Per cui lui, non so per... Cioè praticamente sto comandante Schettino, insieme ad altri ufficiali, come dicono, io non lo so, presumo di sì che sia vero, per parlare con questo comandante De Falco, ha avuto una radio da presso. Per cui si è preoccupato andando in questa lancia per tarsi una radiolina da presso. Giusto? Quindi come inquadra... Io immagino, non l'ho visto perché nessuno lo sa. Era un ufficiale il caso. Il comandante, nel momento in cui lui parla, il comandante De Falco riesce a contattare il comandante e trova, io che gestisco un piano SAR, cioè sto vedendo una nave inclinata, una nave passeggeri con 4.000 persone a bordo. Parlo con te comandante, tu mi rispondi da una lancia di salvataggio o da uno scoglio, come si dice. È chiaro che l'adrenalina del comandante De Falco è andata al 100%. Per cui dice, insomma, chiaramente... Ma siamo comandanti, siamo comandanti. D'accordo. In quel caso dico... Sì, ma in quel momento il comandante non era più... Ma si sta parlando con un bambino, secondo me, un bambino in preta al panico. Ma perché purtroppo ha ricevuto delle risposte dal bambino. Ecco perché. Perché se non avesse avuto una risposta da bambino, fra virgolette, non si sarebbe comportato in quel modo. Cioè usare quel linguaggio imperativo, soccombente, prepotente, fra virgolette, che chiaramente... Ma quando il tuo interlocutore, tu hai la responsabilità, hai ricevuto un'emergenza, hai ricevuto un'emergenza. Sei tu al comando, quindi devi gestire questa situazione estrema. Il tuo interlocutore principale è chiaramente il comandante della nave. E questo comandante della nave non lo trovi al suo posto. È chiaro che ti incazzi, scusami. Sì, sì. Magari hai usato dei toni forti, dei propri... Sono di quelli che stanno a terra e giudicano. Appunto. Non è facile. Il modo mi è parso alquanto strano. Sicuramente sì. Però lui ha pensato chiaramente... Deve sapere anche con chi... Però lui era a conoscenza... In che Stato trova... Lui era a conoscenza che ancora a bordo ci possono delle persone. Quinta ancora molto grave. Per cui io dico... Ma l'ordine è dato al comandante di risalire a bordo per contare i ballerieri... Vabbè, quello è stata, diciamo, una coreografia verbale, diciamo così. Perché chiaramente ci sono dei morti. E quando il comandante ti risponde quanti morti ci sono? Me lo dice a me che sono sentito in ufficio. Ho sentito che ce n'è uno. Me lo dice a me che sono in ufficio. Quindi lei va da bordo e si... Lo consta, dico, in prima persona, in prima battuta. Allora, dico, dal punto di vista del dovere, il defalco... Il defalco, secondo me, ha fatto... Diciamo, anche se ha esagerato un po' nei toni, è stato irreprensibile. Non è stato irreprensibile perché era lui il gestore della situazione, di questo piano d'emergenza che c'è coordinare Capitanere di Porto, Finanza, Carabinieri, era tutto nelle sue mani. Perché è uno solo che gestisce un'emergenza. Non è stato un gran chiede dal punto di vista psicologico. Psicologico, diciamo che ha perso, diciamo... Ha perso le staffe anche... Ha perso le staffe, non ha perso il controllo. Grazie a tutti.